Meme Economics, l'economia e la finanza raccontate attraverso i meme, un linguaggio più leggero per temi comunque delicati, importanti, che ogni giorno affrontiamo ovviamente con la giusta competenza e la giusta attenzione, ma che vorremmo provare anche a fare cercando di strapparvi un sorriso ove possibile e quindi utilizzando i meme che di fatto sono diventati degli strumenti sempre più presenti all'interno del web e attraverso la rete. E allora cominciamo subito, cominciamo, sono giorni di apprezzione per quella che di fatto è una nuova ondata di Covid-19 e possibili lockdown. Infatti partiamo dal DPCM che Giuseppe Conte ha presentato lo scorso 13 ottobre. Uno dei provvedimenti più importanti e che fanno discutere ancora adesso è quello che prevede insomma le 6 persone, massimo 6 persone per quanto riguarda le feste private. E allora il web si è scatenato, ma anche noi ci siamo scatenati. Partendo da qui, dai magnifici 7, massimo 6 persone, risponde Conte. Voi direte ma sono all'aperto, sì però sono uno attaccato all'altro, insomma un po' di distanziamento sociale non guasta e allora niente da fare, massimo 6 persone. Andiamo avanti con il secondo meme che ci racconta un'altra situazione abbastanza simile e cioè Beverly Hills 90210, anche in questo caso Conte dice massimo 6 persone, qui sono 8, spesso si trovavano a casa Walsh, a casa di Brandon Walsh e Brenda Walsh, niente da fare. Anche in questo caso massimo 6 persone. Andiamo avanti, un'altra citazione in qualche modo anni 80, abbiamo anche i Gunis, le abbiamo messi sotto perché guardano in alto, anche in questo caso si trovavano in 6-7 a casa dei protagonisti, niente da fare, massimo 6 persone dice Giuseppe Conte. Ancora un altro meme a tema, riguarda in qualche modo un'altra situazione abbastanza divertente, cioè quella dei classici, insomma neanche i classici possiamo forse più mostrarvi, se possiamo in qualche modo raccontare. Eccolo qua, abbiamo un po' tergiversato, ma insomma neanche i classici possiamo permetterci di leggere 10 piccoli indiani, niente da fare, massimo 6 persone. Andate a dirlo ad Agatha Christie, in questo caso ci verrebbe da dire. il prossimo meme ancora a tema di PCM, questo è stato utilizzato spesso in qualche modo dal web, noi abbiamo messo l'ultima cena, massimo 6 persone, qui c'è veramente grande, c'è poco distanziamento sociale e come detto questa è una delle fotografie più utilizzate nei meme che hanno girato sul web, insomma ne abbiamo realizzata una anche noi. E allora chi si salva da questo di PCM? Qual è il gruppo che si salva? Eccolo qui, è quello di Franz, massimo 6 pers? Ok, abbiamo messo tranquillo anche Giuseppe Conte con il gruppo di 6 persone composto dalla serie Calt degli anni 90 e non soltanto Franz, Franz che poi ritroveremo, ma andiamo avanti perché come il Covid-19 non ha solamente spinto Giuseppe Conte e i governi di tutta Europa a effettuare nuovi provvedimenti di lockdown magari abbastanza mirati su determinate situazioni, ma in generale quello che succede ai mercati è qualcosa di inedito, insomma l'ultimo trimestre del 2020 potrebbe essere uno tsunami come potete vedere da questo meme, vediamo i mercati che è la ragazza in piedi e tra nuovi lockdown, le elezioni americane, la guerra commerciale Stati Uniti-Cina, seconda ondata Covid-19 e le trimestrali potrebbero effettivamente travolgere i mercati nell'ultimo trimestre. C'è anche la Brexit che sembrava in qualche modo avesse trovato la giusta direzione e invece come vedete qui abbiamo ripreso Joy Tribbiani di Franz e eccolo qua, abbiamo Boris Johnson che nel dicembre 2019 aveva detto trovato l'accordo con l'Unione Europea sulla Brexit e poi però a settembre 2020 che cosa succede? Quindi poco tempo fa insomma viene fuori che la Gran Bretagna ha detto sì a una legge che annulla l'accordo con l'Unione Europea e allora inevitabilmente lo sguardo di Joy Tribbiani strabuzza in qualche modo dopo che sembrava fosse stato raggiunto un accordo tra le due parti e come sapete insomma le trattative sono ancora in corso, andiamo avanti perché come detto insomma non c'è solamente la Brexit, insomma non abbiamo a che fare solamente con la Brexit perché come detto i mercati stanno attroversando un momento più che mai anomalo, ben diverso soggetto, ben diverso a dinamiche pre-Covid e questo è uno degli esempi, quando gli indici azionari salgono e anche loro toccano nuovi massimi o gli indici azionari scendono e loro toccano nuovi minimi. Confused stonks, questo è uno dei meme più utilizzati, stonks o non stonks, in questo caso è confuso nel senso che non si capisce più niente, ci sono nuove dinamiche che in qualche modo modificano e agiscono sui mercati, ma non è l'unico esempio, vediamo anche il prossimo meme che ci spiega un po' quello che sta accadendo. Quando il prezzo del petrolio sale ad esempio ma i titoli energetici toccano nuovi minimi, è una delle domande che ci pongono anche gli amici a casa durante le nostre dirette, come mai se il prezzo del petrolio sale non salgono anche i titoli energetici? Sono, è di peso, dipende proprio da queste nuove dinamiche causa Covid, non solo, ne abbiamo un altro di meme sul petrolio, vediamo Paperino che si sveglia agitato durante la notte e dice quando ti svegli perché stanno per pubblicare le scorte del petrolio, dato che comunque sono dati americani e quindi escono nella notte, poi però ti ricordi che da 4 mesi agli operatori delle scorte non gliene frega niente, una volta la pubblicazione delle scorte comportava un aumento o un ribasso del prezzo del petrolio, adesso la domanda è talmente debole che anche modifiche consistenti alle scorte non cambiano più di tanto, non vanno a cambiare più di tanto, non alterano più di tanto il prezzo del petrolio. E a proposito di petrolio, a questo punto non possiamo non parlare dei titoli energetici che appunto non seguono più l'andamento del prezzo del petrolio, in particolare parliamo di Eni che ha perso il 50% nel 2020, eppure è una società stabile, molti analisti dicono state tranquilli, Eni tornerà a salire, ma quando? Nessuno può saperlo e allora abbiamo utilizzato quest'altro meme che viene utilizzato spesso in rete, ascoltami bene, dice la scimmia di cioccolato, non mi rimane molto tempo, il titolo Eni tornerà a salire il giorno, niente da fare, si squaglia, il latte diventa cioccolato, come diceva anche una vecchia pubblicità, e insomma neanche questa volta sapremo quando è che il titolo Eni quantomeno tornerà a crescere e tornerà ad avere un trend rialzista. Siccome siamo entrati nel paniere principale del Fuzzimib, parliamo anche della nostra piazza, di Piazza Affari, che è una delle più debole, una delle meno forti borse piazze europee, si aspettano i 20.000 punti per trovare un nuovo trend rialzista, allora vediamo una stella cadente, l'investitore dice desidero che il Fuzzimib raggiunga i 20.000 punti, che è il livello dopo il quale può avviare in qualche modo un trend rialzista, niente da fare, anche la cometa non ci crede, invece di essere cadente, è una stella che torna indietro, che torna sui suoi passi. E allora andando avanti, vedendo anche il prossimo promo, eccolo il prossimo meme, chiedo scusa, ci sono anche notizie buone, cioè le banche centrali che monitorano, cercano di farlo in qualche modo i mercati, in particolare quando c'è una conferenza stampa della banca centrale, qui abbiamo scelto Christine Lagarde, i mercati in questo caso sono i compagni di classe di Bart Simpson, quando Christine Lagarde dice o comunque un rappresentante di una banca centrale, la BCE, le banche centrali faremo ciò che è necessario, esultano i mercati o meglio si tranquillizzano se vogliamo dirla tutta e magari registrano meno volatilità del solito e questo concetto l'abbiamo messo anche in un altro meme che arriva dai Simpson, perché se ci fate caso durante le conferenze stampa succede di tutto o meglio, i presidenti delle banche centrali nelle loro conferenze stampa dicono diversi concetti, anche importanti, ma ai mercati non gliene importa nulla, sono Christine Lagarde, i mercati rimangono fermi immobili, la ripresa è più lenta del previsto, i mercati rimangono immobili e non gliene importa niente, ma poi quando dice la BCE farà ciò che è necessario che poi è un whatever it takes 2.0, allora capiscono chi sta parlando e che cosa sta dicendo e a quel punto si possono anche tranquillizzare. È anche vero che in realtà quando si parla di banche centrali è una sola quella che veramente ha, diciamo così, possiamo definirla del mastro burattinaio e cioè la Fed e appunto proprio perché la Fed questo è un auspicio più che in realtà una situazione che va a verificarsi ogni volta, ma siccome c'è la seconda ondata di coronavirus l'augurio appunto è che, qui vediamo Jay Powell davanti a questo treno che travolge il pullman che rappresenta la seconda ondata coronavirus, faremo ciò che è necessario, in realtà le nuove munizioni, le munizioni che la Fed dichiara di avere ancora in serbo, possa in qualche modo tenere sotto controllo i mercati in quelli che appunto sarà un ultimo trimestre piuttosto delicato, piuttosto importante e sicuramente da raccontare. Andando avanti non ci rimane che raccontarvi qualcosa delle elezioni americane, lo faremo sempre più spesso sotto le elezioni, però insomma uno dei temi più affrontati nel dibattito, nel primo dibattito tra Trump e Biden è stata la presunta evasione monumentale dal punto di vista fiscale di Donald Trump, allora ci siamo immaginati così, insomma il commercialista che dice quest'anno le tasse sono aumentate, ebbene con lo sguardo il bicchiere che ha in mano Leo DiCaprio nel film Django Unchained, una delle scene più famose, ma questo è uno dei meme più utilizzati in assoluto dal web, il commercialista di Trump che sostanzialmente se la ride e ovviamente insomma con l'augurio che le elezioni americane si svolgano in maniera tranquilla e che i risultati vengano accettati da entrambe le parti, perché insomma Trump ha anche detto non mi fiderei molto se dovesse uscirne sconfitto, l'augurio è anche che insomma riusciamo tornando al DPCM, che è un altro dei temi più importanti del momento, speriamo che insomma eventuali nuovi lockdown non ci tengano fermi, bloccati fino a Natale, anche perché se così fosse noi sapremmo già come sarebbe il nostro Natale, sarebbe in qualche modo non bello come gli altri e ci sarebbe una sola persona che in qualche modo esulterebbe e cioè il signor Amazon con il lockdown a Natale, in questo caso ancora nei panni di Leonardo DiCaprio che si beve insomma il suo calice alla nostra salute, ovviamente insomma l'augurio è che a Natale, nelle feste, la situazione si risolva al meglio. Questo è Memeconomics, l'appuntamento è per settimana prossima, grazie per averci seguito, vi lascio al resto della programmazione di Le Fonti TV.